l'associazione amici del presepe di monterosso almo presenta il presepe vivente 26 dicembre 1 6 e 8 gennaio la magia del presepe nel suggestivo scenario del centro storico di monterosso almo partenza del corteo alle ore 17 30 da piazza san giovanni il presepe vivente di monterosso almo informazioni allo 0932 97 76 56 sul web presepe monterosso.tk wonderfoto.it salvofattuzzo.com non 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 non